Con un tubo di ferro spacca le vetrate dei distributori automatici al pincio di Fano e scappa, i gestori sporgono denunce e lanciano un appello alla città. Chi ha visto si recchi dalla polizia. Disdette e calo di turisti anche a Fano, ma non tutti gli albergatori sono insoddisfatti della stagione estiva. Abbiamo lavorato bene, è stata una bella clientela, quindi va bene così anche se il tempo ci ha un pochino penalizzato, però non ci lamentiamo. Ideato per la città fanese, un nuovo progetto di attrazione turistica, il museo diffuso del porto per raccontare il mondo della marineria. Installare le isole ecologiche al porto di Fano, la richiesta del Movimento 5 Stelle che prepara un rendering e suggerisce basta copiare la soluzione adottata a Pesaro. Diffondere i progetti per contrastare la violenza di genere, ecco l'obiettivo della conversazione pubblica istituita dalla cooperativa Labiritto al carcere di Pesaro. Il 2 e 3 settembre torna la festa della perangelica di Serrungarina. L'evento, giunto ormai alla 26esima edizione, è organizzato dalla Proloco e patrocinato dal comune di Coglia al Metà. All'Arena BCC domani l'ultima serata della rassegna dialettale. In scena la compagnia saranno fanosi con i fantasmi non fanno paura. Giovedì 31 agosto, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca e con l'appello lanciato dai gestori del negozio di distributori automatici situati al Pincio di Fano. Questa mattina ci hanno raccontato, intorno alle 7.49, un uomo con una felpa bianca, incappucciato e col volto coperto da una mascherina, è arrivato di gran carriera con la sua bicicletta buttandola a terra. Poi con un tubo di ferro ha iniziato ad inferire colpi violentissimi contro le vetrate dei distributori frantumandole, come vedete da queste fotografie. Non solo, hanno proseguito, sempre con tanta violenza l'uomo ha colpito la macchina del caffè distruggendola e per completare la sua opera, non soddisfatto, ha lanciato il tubo verso la telecamera di videosorveglianza che lo stava riprendendo, provocando un buco nella parete di cartongesso. Abbiamo sporto denuncia alle forze dell'ordine e consegnato le immagini, sperando che venga individuato e che paghi per quello che ha commesso. Facciamo un appello ai cittadini, hanno concluso i gestori, e se avete visto qualcosa recatevi al commissario di polizia. E diamo spazio ancora alle vostre segnalazioni, passando con le foto scattate a Pesaro da un telespettatore che chiede i lavori di asfaltatura in via Avogadro, in particolare vicino alla cabina dell'Ener. Invece un altro telespettatore ha voluto fare un plauso al sistema di prenotazione delle visite mediche. Dalle disfunzioni sanitarie se ne parla tutti i giorni, ci ha scritto. Io oggi vorrei elogiare chi fa il mestiere di medico all'interno delle strutture ospedaliere. Ho prenotato una visita urologica martedì e questa mattina, giovedì, ho fatto la visita aspettando solo 48 ore, anche se non era urgente. Sarei contento, ha proseguito, che l'opinione pubblica sia a conoscenza del fatto che la sanità funziona. Basta che ci siano medici e questi lavorano egregiamente. Ringrazio il medico dell'ambulatorio ospedaliero del Santa Croce che ci mette del suo per fare in modo che tutto funzioni. E a proposito di medici, è stata pubblicata la determina che dà avvio alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 17 medici di diverse specialità da destinare ai diversi presidi dell'AST di Pesaro e Urbino. Con queste procedure, spiega il direttore generale dell'AST, Nadia Storti, diamo l'infa a diversi reparti per la copertura di posti vacanti da dedicare a strutture aziendali strategiche che contribuiranno a dare impulso sia all'attività ambulatoriale che a quella dei ricoveri ospedalieri con conseguente abbattimento delle liste di attesa. Le domande potranno essere presentate dai candidati dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale della Regione Marche. Ed ora cambiamo argomento per parlare della stagione estiva che fa i conti con il calo di presenze turistiche. Non tutti gli albergatori però sono insoddisfatti. Sentiamo allora nelle interviste realizzate da Stefania Schiaroli che ha fatto il punto anche con il presidente provinciale di Federalberghi. Luca, com'è andata la stagione? Allora, la stagione tutto sommato non è andata male. C'è stato più o meno, siamo in numeri dell'anno scorso, qualcosina di meno, però almeno rispetto a quello che leggevo così anche sui giornali dei cali 20-30%, almeno per quello che si riguarda non è stato così. Quindi tutto sommato non ci lamentiamo. Clienti italiani o stranieri? Soprattutto italiani, stranieri, Germania, Svizzera, meno del 10%. Si è parlato di un calo di turismo comunque, secondo lei da che cosa dipende? Sicuramente c'è una minore capacità di spesa delle famiglie, quindi quello è influito sicuramente. Poi magari adesso che non c'è più restrizioni anche per i viaggi all'estero, magari la gente, non come le ultime volte che è rimaste in Italia, magari è andata all'estero. Nonostante il tempo che non è stato dei migliori, bisogna dirlo, però comunque abbiamo avuto una buona estate. Tutto sommato il volume di persone è stato quello che ci aspettavamo. Abbiamo lavorato bene, è stata una bella clientela, quindi va bene così, anche se il tempo ci ha un pochino penalizzato, però non ci lamentiamo. Abbiamo avuto una delegazione di polacchi, che sono dipendenti di una ditta qua della zona. Il loro titolare li ha invitati a venire a Fano, diciamo, e sono arrivate diverse delegazioni di questi clienti polacchi. La solita famiglia di americani che viene tutti gli anni. Bilancio stagionale 2023. Allora, bisogna dire che non è andata molto bene, perché abbiamo avuto, come in tutta Italia, io penso, un calo del 20%, anche 25%. Alcuni mi hanno detto anche il 40% di calo. Io ho fatto dei sondaggi, sia in Sicilia che in Sardegna, dove ho dei colleghi, mi hanno detto che è veramente un problema grande. Questo calo è stato naturalmente interpretato da noi sul fatto dell'aumento di questi tassi di interesse sui prestiti. Il ceto medio non ce la fa più e ha ristretto molto le vacanze, perché in questo momento si parla molto di vacanza, ma molto ristretta. Venerdì, sabato e domenica, oppure massimo 4 giorni, non è più il tempo della settimana o 15 giorni. Io spero che cambi qualcosa, perché noi puntiamo sul futuro del turismo. È vero che ci sono degli eventi importanti sulla città di Fano che stanno portando tanta tanta gente. E per noi questo vuol dire, prima di tutto, promozione. Perché la gente viene, vede una città, una città vivibile, una città tranquilla. Poi vediamo anche che ci danno ossigeno per questi periodi abbastanza particolari. L'importanza dei parcheggi per gli alberghi fanesi, soprattutto in Sassonia. Sono anni che noi combattiamo con questo problema. Il Comune di Fano deve credere a darci possibilità di far arrivare la gente e parcheggiare. Perché questo turismo che abbiamo noi, che il 99% viaggia su gomma, visto che i treni a Fano se ne fermano pochissimi, per dire nessuno di importanza nazionale, per noi il parcheggio è veramente un qualcosa, è il fiore all'occhiello di ogni attività. Ormai l'estate sta declinando, ma la città continua a fare leva sulle attrazioni turistiche. Una di queste è il porto su cui l'amministrazione comunale ha ideato un progetto. I dettagli di Massimo Foghetti. Tra la spiaggia di Sassonia e quella del Lido, esiste una zona in possesso di una grande forza di attrazione turistica, che la città, fino ad un recente passato, ha poco sfruttato. È la zona del porto. È un ambiente suggestivo, che per coloro che risiedono in una località senza mare, costituisce un luogo tutto da scoprire. Ed ecco allora che il porto ha assunto una nuova dimensione, divenendo la sede ideale per realizzare un eco-museo. Tutto risiede in un progetto che inizia il suo percorso nella Scimitar. Lo Scimitar fungerà da centro di interpretazione turistico-culturale. Vuole essere l'approccio del turista, del visitatore che arriva nella città di Fano nel conoscere la nostra tradizione e la nostra identità marinare. È un luogo dove ci saranno ovviamente le persone ad accoglierti e che ti potrà far girare nelle magiche stanze dello Scimitar e così dare le giuste suggestioni, darti la voglia di continuare un percorso che poi tocca veramente tanti altri punti della zona porto. Lo Scimitar poi relaziona con altre strutture che sono vicine appunto a questa barca, sempre in ambito portuale. Sì, siamo nella fase di progettazione, quindi poi dovranno studiarlo bene i progettisti, ma da oggi lo studio prevede, oltre allo Scimitar che è il punto iniziale, l'idea di una videosfera che sarà posizionata proprio qui a fianco, proprio vicino l'attuale punto Iat, l'ex casa del genio civile, due luoghi che con tecnologia e materiali che arrivano dalle famiglie dei pescatori della città possono raccontare bene la tradizione marinara. Non è solo quello, ci sarà un film diffuso perché l'intenzione è proprio portare le persone a vedere i luoghi della nostra tradizione marinara, come lo sono il Gugul, come lo sono la Darsena Giorgini e la Darsena Pipeta, come sono l'asta del pesce o ad esempio Molo di Ponente con i quadri dei pescatori. Ecco, e poi prendere questa magica passeggiata romantica che praticamente dalla Darsena Borghese porterà verso il Faro e trovare a metà strada appunto l'ex asilo Manfrini che di fatto diventerà il vero museo marinario della città, che entrerà proprio nella rete museale della città di Fano e continuare nella passeggiata nella magica Darsena Borghese, il vecchio porto della città, riqualificato di tutto punto, con questo magico video che appare proprio al fianco della Darsena che anche questo potrà raccontare una storia. Ecco, l'idea è proprio raccontare una storia, dare le giuste suggestioni, raccontare in 5 o 6 posti chi siamo, il mondo dei pescatori, le persone che hanno vissuto in mare, l'innovazione che Fano ha portato al mondo della pesca e tutto quello che abbiamo da raccontare nel mondo della marineria. Chi è coinvolto nella redazione di questo progetto? Comune di Fano, quindi Assessorato alla Cultura, Assessorato al Turismo, con il Ministero, e nello specifico l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, con l'itinerario culturale del Consiglio d'Europa, la Rotta dei Fenici, con il quale dialogheremo perché vogliamo che questo ecomuseo dialoghi con tutti gli altri ecomusei della marineria per raccontare a tutto il mondo che l'Italia è forte di una tradizione marinara e in questa forte tradizione marinara ci entra pieno anche Fano. Eppure qualcosa entro la prossima estate? Sì, noi abbiamo un obiettivo forte, quello di iniziare il progetto già a inizio del prossimo anno e stiamo lavorando con questo, con i progettisti, con il Ministero e con i nostri uffici. E rimaniamo nella zona del Porto perché il Movimento 5 Stelle di Fano ha depositato un'interpellanza per chiedere l'installazione di isole ecologiche. Dopo l'interpellanza sulla viabilità connessa alla nuova piscina, oggi siete intervenuti sul tema rifiuti. Che cosa chiedete all'amministrazione comunale? Chiediamo due cose molto ma molto semplici che derivano dalla legge Salva Mare approvata lo scorso anno ma presentata nel 2018 dal Ministro del Movimento 5 Stelle Sergio Costa dove appunto la legge Salva Mare prevede che i pescatori finalmente possano recuperare i rifiuti in mare cosa che fino adesso raccoglievano con le loro reti eccetera e poi ributtavano sistematicamente in mare perché non sapevano e non potevano portarle a riva e smaltirle. Quindi questa legge invece prevede che i pescatori finalmente possono fare questa operazione però c'è bisogno di un'isola ecologica in ogni porto, almeno un'isola ecologica poi dipende un po' dalla grandezza dei porti, alcuni porti in Italia ne hanno fatti più di uno giustamente essendo molto più grandi di quello di Fano. Quindi noi chiediamo una cosa molto semplice che venga applicata la norma e che questa norma tra l'altro prevede anche che si facciano dei corsi di educazione ambientale nelle scuole quindi per sensibilizzare i più piccoli ma noi chiediamo anche che si faccia un piccolo sforzo in più cioè che questa sensibilizzazione venga fatta anche verso tutti i cittadini perché insomma a volte si è un po' pigri nel fare questo tipo di operazioni e quindi un'opera di sensibilizzazione sarebbe opportuna anche per aumentare la percentuale di riciclaggio generale della città di Fano che è ferma ed è stabile da tanti anni quindi la norma lo prevede, noi avevamo presentato un'interrogazione già lo scorso anno però l'assessora, diciamo, noi pensiamo a pensare male, pensiamo spesso male ci dicono però visto che altri comuni come Pesaro vicino a noi l'aveva proprio in quei giorni inaugurata ha buttato un po' la palla in tribuna dicendo che la legge era nuova bisognava studiarla un po', bisognava fare accordi con le autorità portuali, Capitaneria, l'ASET e le associazioni di categoria per strutturare bene questa isola ecologica è passato più di un anno, stiamo punto e da capo, sui giornali qualche giorno fa un'associazione di categoria ha sollecitato l'installazione di queste isole ecologiche quindi noi torniamo alla carica, se si vuol dire, su questo piccolo problema è una goccia nel mare perché sicuramente il problema non si risolve con l'isola ecologica perché l'inguinamento marino è evidente, è palese ed è riconosciuto da tutti però visto che parliamo di mare, questa goccia servirebbe come tante altre E questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sul Monte Catria nel comune di Cagli per recuperare un bovino che si era ferito in una zona impervia del monte la squadra di Cagli in collaborazione con l'elicottero proveniente dal reparto volo di Arezzo ha provveduto a recuperare l'animale e con l'ausilio di Drago 57 lo hanno trasportato nell'azienda del proprietario sul posto era presente anche un veterinario che ha provveduto a sedare l'anima e prosegue il lavoro della cooperativa Labirinto nell'ambito dei servizi e azioni per il contrasto alla violenza di genere proprio in questo ambito è stata istituita una conversazione pubblica in programma il 29 settembre al carcere di Pesaro Marco Lonigro Far conoscere i progetti per contrastare la violenza di genere e costruire una connessione tra le azioni dentro e fuori il carcere è questo l'obiettivo della conversazione pubblica tra la giudice Paola Di Nicola Travaglini la direttrice della casa circondariale di Pesaro Palma Mercurio e chi opera e partecipa ai progetti per il contrasto alla violenza di genere della cooperativa Labirinto l'iniziativa curata dalle operatrici e dagli operatori della cooperativa insieme all'area pedagogica della casa circondariale pesarese si svolgerà venerdì 29 settembre alle ore 15 come nasce questo importante progetto? come cooperativa Labirinto abbiamo aperto abbiamo preso in gestione il centro antiviolenza e quindi poi piano piano casa emergenza, casa rifugio eccetera eccetera però il lavoro in carcere nasce in un modo molto particolare una storia bella direi dentro il carcere, dentro la casa circondariale di Villa Fassigi in verità noi ci porta una donna, una donna detenuta due anni e mezzo fa arrivo al centro antiviolenza e trovo nella buca della posse una lettera una lettera scritta a mano come adesso non usa più era una donna che dalla casa circondariale di Villa Fassigi ci scriveva, ci diceva, ci raccontava della sua vita e ci diceva sì sono una detenuta ma sono una donna vittima di violenza non posso venire da voi, sono reclusa venite voi da me e noi diciamo che sì dobbiamo rompere le regole dobbiamo inventare il nuovo andiamo e cominciamo in accordo con l'ambito territoriale a seguire questa donna dentro il carcere e da lì così nasce due anni e mezzo fa il nostro entrare alla casa circondariale quello è diventato un servizio quanto è importante affrontare questo tipo di argomento all'interno di un carcere è fondamentale è uno dei compiti istituzionali che l'amministrazione penitenziaria ha da almeno 20 anni se non di più anche quando il fenomeno sociale non era così emerso perché in carcere le cose si scoprono appena nascono e diciamo che noi abbiamo come compito quello di prenderci cura in modo appropriato di queste persone da tempo grazie alla legge sul codice rosso abbiamo anche delle risorse e dei fondi in più che ci consentono di fare delle convenzioni con psicologi maltrattanti oppure come in questo caso con la cooperativa labirinto per offrire un servizio ancora migliore un lavoro che faccia sì che le persone che hanno commesso questi reati prima di vedere la parte negativa di sé vedano anche quella positiva perché devono capire di avere in sé stessi gli strumenti per aiutarsi quindi si fa arte arte terapia danza teatro tutte cose molto molto belle che noi lavoratori non abbiamo il tempo di fare ma farebbero bene anche a noi che però per loro sono quasi un obbligo cioè le devono fare per dimostrare veramente il cambiamento l'iniziativa è aperta al pubblico per partecipare è necessario compilare il form presente sul sito labirinto.coop le iscrizioni alla conversazione pubblica termineranno venerdì 8 settembre e invece continuano le iniziative solidali organizzate dall'associazione culturale per le rievocazioni storiche di Apecchio per domani è prevista una giornata alla Lega del Filodoro saranno presenti anche dei campioni dello sport e dei personaggi di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo sentiamo una giornata alla Lega del Filodoro per donare un sorriso e non solo Alessandra che cosa avete organizzato per il primo di settembre? sì il primo di settembre andremo a visitare la struttura nuova inaugurata in marzo ad Osimo e andremo a portare dei dispositivi e dei libri sensoriali che verranno donati agli ospiti della struttura e poi faremo una conferenza dove annunceremo determinati eventi perché la nostra associazione è molto vicina alla Lega del Filodoro e insieme a noi avremo un'associazione dei miti dello sport che appunto sarà presente per dare un segno di solidarietà e chi saranno questi ospiti d'eccezione? saranno dei campioni limpionici e delle personalità del mondo della cultura e dello spettacolo avremo Valerio Vermiglio che è il pallavolista Bruno Mascaregnas campione di canottaggio Emanuele Blandamura campione di pugilato Antonio Di Natale che è l'organizzatore degli eventi di miti dello sport avremo Marco Scimia che non so se sapete ma è il sosia italiano di Johnny Depp Oreste Fuga della NASA e il mental coach Giovanni Letizia in collegamento la giornalista Antonella Biscardi dal Brasile e insieme a queste persone andremo a interagire con gli ospiti della Lega del Filodoro all'interno dei loro laboratori proprio per dare un contatto e per dimostrare che insieme si può fare tanto e che il bene ripaga sempre E torna la festa della perangelica a Serrungarina l'evento giunto alla 26esima edizione si svolgerà il 2 e 3 settembre È in programma per sabato 2 e domenica 3 settembre la 26esima edizione della festa della perangelica di Serrungarina un evento organizzato dalla Proloco di Serrungarina con il patrocino del comune di Coglia al Metauro La festa animerà tutto il borgo medievale per celebrare la perangelica riconosciuta nel 2010 dalla regione Marche come prodotto agroalimentare tradizionale L'edizione 2023 della festa della perangelica prevede numerose attività ad arricchire il borgo nella due giorni ci saranno gastronomia, musica, cultura, sport e tanto altro ancora È una festa che davvero per organizzarla ci vuole davvero tanto, tanta fatica come sicuramente molte feste ma portare tutto quel po' di materiale dentro il centro storico di Serrungarina è sicuramente un grandissimo impegno abbiamo praticamente oramai completato tutto e cominceremo il 2 con l'inaugurazione della festa alle ore 16.30 come ciliegina quest'anno abbiamo chiamato la fanfara dei bersaglieri da Qualagna che farà con un concerto, darà il via alla festa apriranno i mercati della pera apriranno i vari punti gastronomici e poi tanta musica, salto in banco chi più ne ha più ne metta è anche un'occasione per un confronto tra produttori e consumatori certo, certo, sicuramente già la Proloco in questo si è spesa collaborando sia con i produttori che con l'amministrazione per cercare di avere un incentivo per questi produttori e per cercare di ampliare il parco produttori perché comunque sono rimasti pochini sono rimasti pochini e ancora della perangelica c'è richiesta perché è un prodotto davvero unico e assaporatelo e capite tutto non c'è bisogno che dico altro è un evento sì che è lo strumento per valorizzare come diciamo il territorio per portare alla luce e valorizzare quello che è il prodotto in questo momento che è più importante al di là dell'evento che è la perangelica la perangelica che è un frutto del nostro territorio è un frutto della tradizione del nostro territorio riconosciuto tale dal Ministero nel 2001 che sta vedendo un po' la perdita da parte dei produttori di questo frutto perché ormai hanno raggiunto un'età magari è grande quindi hanno necessità di un cambio generazionale e per questo che la nostra amministrazione insieme all'associazione perangelica di cui siamo anche soci sta cercando anche di trovare insieme a loro un progetto per cercare di incentivare la messa a dimora di nuove piante, di ulteriori piante ma soprattutto di essere attrattivi nei confronti dei giovani verso questa attività quella che è l'agricoltura che è fondamentale per i nostri territori perché sappiamo che la gente, i turisti vengono da noi proprio perché c'è uno stare bene si vive bene, si mangia bene la qualità e l'ospitalità sono punti cardine di forza dei nostri territori Sarà la compagnia dialettale saranno fanosi a chiudere domani sera la rassegna teatrale dialettale all'arena BCC allora sentiamo tutti i dettagli dello spettacolo nelle interviste realizzate da Maria Elena Delbianco e soprattutto tosto con un toro hanno bussato eh non si disturbi vado io ad aprire grazie grazie saranno fanosi e no non ho sbagliato fanosi ma perché? ma perché? a chi lo chiediamo? allora scrive saranno fanosi perché questo è un gruppo costituito da sette persone che va avanti già da 5-6 anni e praticamente c'è solamente un fanese poi c'è un napoletano un romano un aquilano San Costano insomma c'è tutto il circondario delle marche fuori delle marche e per quello abbiamo detto perché magari o diventiamo famosi oppure impariamo tutto il fanese e diventiamo fanesi da qui fanosi che è una via di mezzo ci piace questa cosa però l'artefice colui che ha scritto insomma provveduto alla stesura del testo sei tu e quindi possiamo fare un piccolo riassunto di quello che vedremo una piccolissima premessa il testo è stato scritto da me però è stato poi integrato con i contributi di tutti quanti una battuta un'idea una scelta una trovata e proprio per questo motivo corale la commedia è diventata bella e divertente perché lo è e vi invitiamo a venirla a vedere in brevissimo i fantasmi non fanno paura generalmente i fantasmi incutono terrore e il titolo invece invita a non averne paura ma perché beh questo lo invitiamo invitiamo tutti quanti a venirlo a vedere e soprattutto verranno a scoprire chi sono veramente questi fantasmi bene non svelatecelo ora perché l'appuntamento è alla BCC Arena quando? il giorno primo settembre venerdì sì alle 21 e questa era la nostra ultima notizia subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire le programmazioni di Fano TV l'appuntamento invece con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa grazie per essere stati con noi e buona serata grazie per la visione